Eppure stavo benissimo e questo era assurdo perché non avevo nemmeno difficoltà a dormire la notte, io veramente non ho avvertito il peso di questa gravidanza. Nel giro di due ore abbiamo fatto travaglio e parto in maniera assolutamente naturale, non è servita l'ossitocina per indurre il parto, non è servito il cesareo, non è servito niente di tutto quello che mi era stato proposto, non ci sono state controindicazioni e Maria è nata, nel momento in cui l'ho vista so che è stato un momento che non dimenticherò mai, in quel momento ho capito che eravamo legati per la vita anche se non pensavo al fatto che lei sarebbe stata poco con noi, sapevo che era legata con me per la vita perché era mia figlia e poi l'hanno portata fuori e nel momento in cui Enrico è rientrato dentro la stanza e mi ha portato Maria è stato un altro momento indimenticabile perché l'ho visto con Maria in braccio e lo vedevo guardarla in maniera così fiera, così contento di lei. Ero sicura che non avrebbe potuto avere un padre migliore. La cosa che poi avevamo chiesto al Signore come desiderio, oltre al fatto di fare un parto naturale già ascoltato, era il fatto di farla nascere viva e di poterla battezzare. E quando Enrico è rientrato mi ha detto è viva, l'abbiamo battezzata. E' stato il dono più grande anche che il Signore potesse farci. Noi l'abbiamo tenuta una mezz'oretta, l'hanno potuta conoscere i nonni e alcuni amici e poi l'abbiamo preparata e Enrico l'ha accompagnata. Quello che posso dirti è che quella mezz'ora non mi è sembrata affatto poca. E' stata una mezz'ora indimenticabile. E se io avessi abortito non penso che potrei ricordare il giorno dell'aborto come un momento di festa, un momento di cui mi fossi liberata di qualcosa. Penso che sarebbe un momento che cercherei di dimenticare, un momento di sofferenza grande. Il giorno della nascita di Maria invece potrò ricordarlo sempre come uno dei più belli della mia vita. E potrò raccontare ai figli che il Signore vorrà donarci, che hanno veramente una sorella speciale, che prega per loro in cielo. Quello che voglio dire alle mamme che hanno perso dei bambini, è che io voglio dirgli, noi siamo state mamme, abbiamo avuto questo dono. Non contare il tempo, se un mese, due mesi, poche ore, conta il fatto che noi abbiamo avuto questo dono. E non è una cosa che si può dimenticare. Grazie. Grazie. Io sono Daniela, è la ginecologa. Abbiamo avuto la fortuna di poter accompagnare Chiara e Enrico in questi nove mesi. Abbiamo ascoltato questa storia bellissima, proprio toccante, commovente. Intanto ci tengo proprio anche così per aiutarle a sottolineare come... che Chiara e Enrico non sono due eroi, e questo non per sminuirli, ma anche perché hanno ancora più valore. Gli eroi fanno delle scelte lontane dalla nostra vita, diciamo, quotidiana. Invece sono proprio una coppia giovane, semplice, bella, la cui testimonianza può toccare un po' ognuno di noi. In tanti piccoli aspetti della vita, ognuno può cogliere qualcosa di positivo per sé. Non sono eroi, l'insegnamento bello che anche a me mi hanno proprio dato, è proprio l'umiltà, la serenità di pensare che la vita e la morte non dipendono da loro. A loro non toccava chiedere che facciamo, cosa non facciamo, quale decisione dobbiamo prendere, qual è la più giusta. A loro toccava solo accettare la volontà di qualcun altro e andare avanti. E rispetto a tante persone che mi hanno detto, quando ho raccontato questa storia, mi hanno detto tanti dubbi, tante domande, è giusto, non è giusto, uno fa soffrire forse di più una bambina, forse di più una famiglia. Tanti pensieri anche razionali e dico al di là di questi, nel conoscere Chiara Enrico, e dico vale anche così per quei che siete qua, dico per me vale proprio più di tanti pensieri come guardare le loro facce, le facce sereni, contenti di aver voluto bene alla loro bimba e di voler bene alla loro figlia, che vale più di tanti ragionamenti. Il volantino di questa sera, è bello il titolo Il Dono della Vita, mi piace la frase che c'è scritto proprio che il cristiano è chiamato a guardare la realtà, però da una prospettiva diversa, privilegiata. In questa prospettiva, anche io mi sento di affermare proprio che la nascita di Maria è stata un dono e una buona novella, una buona notizia per tante persone. In primo luogo, metto proprio me e per me, questa nascita è stata proprio un regalo grande. Mi piace il mio lavoro, faccio la tinecologa proprio con passione, in tanti momenti tanti, tante soddisfazioni delle storie belle, in altri momenti più difficili. Ho fatto poco prima di conoscere, ho fatto una situazione anche lunga in un consultorio e tante erano le ragazze che venivano proprio a chiedere nei primi tre mesi di gravidanza di interromperla per problemi familiari, perché non c'era un papà, perché tante situazioni un po' terribili. E tante signore, vedevo anche tornare dopo aver fatto o le prime ecografie o l'amniacentesi, col desiderio di interrompere la gravidanza proprio in seguito alla diagnosi di anomalie, di malformazioni fetali. Per me era sempre una grande sofferenza a trovarmi di fronte a delle storie così, tante volte tornavo a casa proprio agitata, tante volte non ci ho dormito la notte, proprio a pensare cosa devo dire, come posso aiutare, come posso aiutare una mamma a guardare la realtà da un altro punto di vista. E tante volte mi sono sentita proprio impotente, magari anche incapace, nel vedere tante signore che comunque magari andavano da altre parti per prendere un'altra decisione. Poco prima proprio di conoscere Chiara Enrico, un'altra mamma, aveva scoperto di una malformazione cerebrale grave della sua bambina, aveva deciso alla fine di andare in un altro ospedale per abortire. Per me era stato proprio difficile accettare così una scelta del genere e in alcuni momenti tanta fatica, difficoltà e a volte mi sono accorta che anche a me iniziava a venire come la tentazione e il dubbio di dire, forse anche nel caso di quest'altra mamma, una straniera arrivata da poco, senza lavoro, col ragazzo in carcere, così, con una malformazione gravissima, e dico, chi lo sa, ha scelto lei e a volte la tentazione proprio di dire forse la vita ha valori diversi in base alle capacità che uno ha. Il trovarmi di fronte al Chiara Enrico, subito con la loro voglia di andare avanti, di portare avanti questa scelta, per me è stato proprio un grande regalo, un grande dono, proprio un segno di luce, di speranza, di dire allora se anche voi credete nel valore della vita che vale a prescindere dalle funzioni, dalle capacità che uno ha, anche io non mi sento una matta, una isolata e sono contenta di crederci a maggior ragione che è così con voi. Un dono, una buona notizia, la nascita di Maria è stata anche per tutte le persone dell'ospedale a Fratello, dove poi hanno fatto le visite, dove Chiara ha partorito. Già quando venivano a fare i controlli, io lo dicevo sempre alle infermiere, alle ostetriche, al personale che c'era, a dispetto un po' della privacy, dicevo di questa, di Angesi, di questa bambina che stanno nella encefalia. Lo dicevo proprio perché mi pareva una notizia in sé, questa storia mi pareva subito una storia bella da testimoniare. Una volta proprio un controllo, un'infermiera nel vederli entrare così sereni, sorridente, mi diceva che era convinta che mi fosse sbagliata, che non erano loro, perché non potevano essere così sereni, e lei avrebbe pensato di sentire come i pianti, le urla, come fuori dalla porta. E tutti rimaniano come molto colpite, da una maniera serena di affrontare una gravidanza pur che non è un sito così difficile da accettare. E comunque è stata una lezione per tanti, anche nel proprio far riflettere un attimo sul senso della vita e al senso della morte. Tante volte uno scappa di fronte a delle domande così importanti e la loro testimonianza ha aiutato tanti a non scappare e anche per questo è stato un dono. Al momento del parto, il vedere Chiara Rico comportarsi come quei genitori normali, tra virgolette, perché si pensava che chissà che i genitori dovevano essere non normali.